Ed ora parliamo di economia coart sipario calato su questo importante progetto transfrontaliero Italia Tunisia. Facciamo oggi pertanto una panoramica su quelli che sono stati cinque giorni molto intensi di scambi e idee culturali ma anche lavorative. Facciamo il punto e maggiori dettagli in questo servizio che segue. Sipario calato sulla cinque giorni di coart dedicati all'artigianato tra le due rive del Mediterraneo. Un progetto trasfrontaliero che ha presentato in cinque giorni un fitto programma di scambi culturali e commerciali al quale hanno preso parte giovani e donne artigiane sia esse tunisine che italiane. Il tutto magistralmente assemblato dal capofila ovvero la municipalità di Alcamo. Semaforo verde con il convegno di successo calendarizzato 4 luglio presso la cittadella dal titolo giovani artigianato la frontiera dell'innovazione nell'area del Mediterraneo dove giovani artigiani del percorso di formazione e incubazione si sono raccontati ai media, alla cittadinanza, ai partner del progetto, ai rappresentanti dell'autorità di gestione della regione siciliana e ai partner associati coart. Interessanti in quell'occasione anche gli interventi della presidente Mariella Triolo rappresentava CNA nazionale impresa donna e l'altro della direttrice della camere di commercio di Bizert, Radia, Karun, Dawadi, entrambi dedicati alle donne e all'artigianato, sottolineando l'importanza femminile in esso e la necessità di promuovere sviluppi economici stabili, duraturi e che sappiano coniugare tradizione e innovazione nelle due aree del Mediterraneo. Un focus di successo poi quello delle esperienze a confronto permettente alla delegazione tunisina partner del progetto coart a pelle e tutti SS di conoscere realtà artigianali innovative sul territorio. Visite studio, confronti diretti dal management all'intero staff di produzione tra artigiani siciliani e tunisini come presso il laboratorio di ceramica e major, a Calatefimi Segesta, a Palermo presso il laboratorio dei tessuti naturali di Luciduci, dei gioielli Franks, dell'ateliare di moda digitale di Flavia Pinello, le borse e gli accessori di Briuccia Sicilia Style. Ospiti anche della realtà alcamese malafimmene Jewels Made in Sicily, un marchio datato 2002, ideato da donne per le donne, le sorelle Aleccia, nato da Lucia, tornata in Sicilia dopo esperienze in studio e lavoro in Veneto, dando vita alla sua prima bottega originale, con al fianco la sorella Virginia, ma la femmina diventa una vera maison dedicandosi alla creazione di gioielli di successo nella migliore tradizione orafa e made in Italy. Ma se altresì ha avuto l'opportunità di incontrare il giovane Pietro Graffeo, una storia familiare alcamese che vanta quattro generazioni di imprenditori, nell'abbigliamento alla delegazione tunisina, Pietro ha presentato il suo brand Memento, una locuzione latina che tradotta fa ricordati, affermando, è come la nostra essenza, si fonde tra ciò che eravamo e ciò che adesso siamo, la moda è ciò, ma anche quanto potremmo e vogliamo essere. Vedi l'importanza dell'atelier Coart, un luogo aperto ad artigiani, giovani, imprenditori, studenti, scuole, al territorio, laddove trovare professionalità e tecnologie per la collettività che si ispira ai Fab Lab sorti in Massachusetts presso il MIT, quando il professor Geschenfeld decise di tirare su uno spazio ibrido per sperimentare dove far incontrare bit e atomi, dove potessero interagire informazione digitale e materia fisica, permettendo agli studenti di unire teorie e pratica della tecnologia. Come sottolinea l'architetto palermitano Michele Pizzuto, responsabile di Fab Lab Palermo, è fin dall'inizio un posto dove testare e provare a concretizzare le proprie idee. Un hub attivo sul territorio, al fine di passare dall'idea all'oggetto, secondo i principi dell'open peer-to-peer design o dell'open source, tutto animato dalla volontà di chi condivide principi, idee, e metodologie tecniche all'interno di questa rete mondiale di creatività e innovazione. Occasioni particolarmente apprezzate dalla delegazione dei partner tunisini, con l'obiettivo di mettere le diverse esperienze a confronto e di ispirazione per future creazioni artigianali e soprattutto condivisione professionale, culturale ma anche artistica. Degna di nota la granditissima vista al centro di riuso in Calatafimi-Segesta, all'interno del progetto René finanziato con il programma Italia-Tunesia, prevedente l'avvio di una start-up sul riciclo dei capi di abbigliamento. Occasioni anche lì di dialogo per altri progetti europei. È come non citare la presentazione al pubblico dell'atelier creativo Coart presso la cittadella dei giovani, dove trovare professionalità e tecnologia al servizio della collettività. Momento questo, utile per consegnare gli attestati ai ragazzi che da febbraio a giugno hanno preso parte ai laboratori digitali organizzati dagli esperti dell'equip trasfrontaliera. E chiudiamo con l'immancabile chiosa, a firmo del primo cittadino alcamesa Domenico Surdi, la settimana Coart, ricca, dove artigiani tunisini e i nostri si sono confrontati non solo sui risultati fin qui raggiunti, ma anche su nuove opportunità creative e lavorative, sempre all'insegna del binomio artigianato e innovazione. Prossimo appuntamento a Tunisi, previsto per fine agosto, laddove l'evento di chiusura del progetto Coart, organizzato dal partner TSS.